Seconda lezione dedicata a Giolitti, vediamo oggi nel dettaglio i governi. I governi Giolitti, vedremo le riforme attuate da Giovanni Giolitti. Già questa espressione, le riforme attuate, ci fa capire che i governi Giolitti saranno caratterizzati da un riformismo di fondo. Cioè Giolitti con il suo esecutivo cerca di attuare delle riforme che hanno l'obiettivo di portare l'Italia dentro, dicevo la scorsa lezione, la modernità, dentro questo novecento fatto di industrializzazione, di città di massa, fatto di nuova tecnologia, di nuovi mezzi di trasporto. L'obiettivo di Giolitti è quello di modernizzare l'Italia. La parola modernizzare all'Italia, la parola modernizzare, già il vero modernizzare è un vero molto complesso, perché modernizzare porta con sé l'idea di più tecnologia, più efficienza, questo aspetto tendenzialmente migliorativo delle condizioni di vita, delle persone, delle genti, dei popoli, classi sociali, però ovviamente la modernizzazione può anche poi contenere degli aspetti a volte di violenza, ma comunque molto problematici. La modernizzazione di cui stiamo parlando, la rivoluzione industriale, la modernizzazione tecnologica, ha portato poi anche il grande problema dell'inquinamento. Magari la modernizzazione tecnologica ci farà superare anche l'inquinamento, ok? Oppure la modernizzazione può portare all'aumento dei ritmi di lavoro, la catena taylorista-fordista, trasformare l'uomo in appendice della macchina, aumento la produttività, ma di conseguenza anche la vita dell'uomo si trasforma in una vita meccanica ripetitiva. Cioè modernizzare è un verbo neutro, tutti i termini tendenzialmente sono neutri, bisogna capire, scienza in termini neutro, la scienza della bomba atomica, del gas o la scienza medica del trapianto di cuore o della appendicellina. È chiaro, scienza, modernizzazione, Stato, tutti i termini che hanno una neutralità, bisogna capire che vuol dire, Stato per l'emancipazione dei cittadini o Stato che reprime i cittadini, trasformare i sud, tutte le parole vanno poi sempre declinate. Le riforme di Giolitti hanno l'intento di rendere il paese meno vecchio, di svecchiare il governo, va bene? Il paese, governi di riforme. Il primo governo Giolitti nasce nel 1903 e durerà sino al 1905. Ok? Ti faccio i detti tre governi e poi li vediamo. 1903-1905. Il secondo governo Giolitti, che è un governo molto molto lungo, è un lungo ministero, va dal 1906 al 1909 ed è l'esecutivo, il governo Giolitti, il gabinetto Giolitti più longevo, più lungo. E poi c'è un terzo governo Giolitti che va dal 1911 al 1913. Questi sono i tre governi dell'età giolittiana. Attenzione! Ci sarà un quarto governo Giolitti, che farò poi. Sarà negli anni 20 del 1900, quando Giolitti, cavallo di razza della classe politica italiana, verrà chiamato dal re a formare un governo in una situazione ben particolare. Siamo in pieno biegno rosso. Le fabbriche italiane, soprattutto del triangolo industriale, Genova, poi Torino, Milano, Bergamo, queste brecce, sono occupate, anche molte aree rurali dell'Emilia Romagna, dal movimento socialista, comunista, sindacalista, ci sono molte tensioni. E per sanare questo sconto tra mondo padronale e imprenditoriale e mondo dei lavoratori viene chiamato colui che aveva già dialogato con gli operai e con i padroni. Dunque rientra in campo per sanare un conflitto negli anni 20 di natura sociale e viene chiamato anche, perché allo stesso periodo c'è questo avvenimento importante, viene chiamato per sanare la crisi di fiume. Perché sono gli anni in cui D'Annunzio è maracciato su fiume e ha trasformato fiume in una città occupata dagli italiani. E c'è la Francia, c'è la Francia e l'Inghilterra che minacciano l'Italia di repressioni, minacciano l'Italia di provvedimenti internazionali se la questione di fiume, l'affare di fiume non viene risolto. È chiaro, dunque Giolitti darà vita a un quarto esecutivo negli anni 20, durerà un anno e mezzo, e dovrà risolvere questi due problemi estremamente spinosi, il conflitto sociale e economico, capitalismo, lavoro, momento socialista, comunista, operaio e imprenditori, e dall'altro lato il problema di fiume, della marcia dell'occupazione di fiume da parte di D'Annunzio i nazionalisti. Questi tre governi invece rientrano nella età giolittiana, cioè quei primi, ok, 12-13 anni del Novecento che in Italia coincidono con la figura politicamente, figura, ieri, carismatica, significativa, centrale di Giovanni Giolitti. È chiaro? Adesso vi presento i tre governi, presento i più o meno le riforme, e vediamo la ricaduta nell'Italia e la discussione politica che c'è. Lo statuto albertino, con le sue regole, norma la vita politica, e Giolitti la conosce, questa vita politica, ho detto ieri, molto bene. È un uomo delle istituzioni, è un uomo della burocrazia, è un uomo che conosce come muoversi, sa come muoversi dentro il palazzo del potere. Questa è una caratteristica fondamentale per capire Giolitti. Va bene, primo governo. Il primo governo inizia subito con una mossa a sorpresa di Giolitti, il quale chiede a Turati, il leader del partito socialista italiano di entrare a far parte del governo. Il governo liberale progressista di Zanardelli è finito, il nuovo governo di Giolitti si apre ancora di più con una prospettiva progressista. Chi provò a coinvolgere il governo? Non solo i liberali progressisti, non solo i cristiano progressisti presenti nelle fila del centro, del centro progressista, ma chi lo direttamente al leader indiscusso del movimento socialista, del partito socialista, nato prima a Genova, poi a Milano italiano, Turati, di entrare a parte del governo. Ma Turati rifiuta, è lungimirante Turati o no? Probabilmente sì, perché il partito socialista italiano sempre più sta andando verso anche posizioni rivoluzionarie. C'è un partito che ha scelto la via del riformismo, c'è entrato in Parlamento per fare delle riforme a favore del lavoro. Ma è un partito socialista, l'obiettivo è realizzare la società socialista, dunque statalizzare, nazionalizzare la proprietà per poi arrivare alla distribuzione della proprietà, al superamento della società di proprietà privata. E' chiaro, dunque l'orizzonte è il socialismo, ma molti dentro il partito non sono riformisti, molti sono rivoluzionari. Turati, attenzione a dialogare con il governo, sono governi liberali borghesi, il nostro obiettivo è la rivoluzione, l'organizzazione dei lavoratori, dei contadini. Se vai al governo, ti mettono i guanti bianchi del potere e sarà ancora in grado di portare avanti le istanze dei lavoratori. Turati sa che il partito in gran parte non lo seguirebbe, non accetta e cerca di condizionare eventualmente il governo da fuori. È chiaro, ma la mossa, volete capire, politica di Giugio Litti interessante, cioè va a chiedere a Turati, che pochi anni prima era stato in carcere come sobillatore rivoluzionario, di se troppo parte di un governo. Dunque svolto progressista. Turati però non accetta. Però vi dà un po' la bussola di dove si sta spostando Giugio Litti. Dunque apertura a sinistra del mondo del sindacato e del mondo del lavoro. E il mondo socialista. I socialisti non sono il diavolo, ci parliamo. Primi provvedimenti reali che realizza riguardano il mezzogiorno. E qui apro una parentesi di qualche minuto sulla questione meridionale. Giugio Litti si rende conto, l'avrà già capito De Pretis, l'avrà capito anche Crispi, che in Italia c'è un problema, un problema di squilibrio gigantesco già all'epoca tra nord e sud. E questo squilibrio che voi sapete permane tuttora in infrastrutture, in ricchezza pro capite, in servizi, spesso anche in qualità della vita, non è detto, ma spesso le maggiori città in cui si vede meglio sono distribuite tra il Trentino, l'Emilia Romagna, la Lombardia, la Toscana, eccetera eccetera, e le città che occupano gli ultimi posti per quale della vita sono invece città meridionali, non è detto, ma in molti casi è così. Questa differenza tra ricchezza e sviluppo era già presente allora, certo, là è l'origine, ok? E Giugio Litti prova a dare vita a delle politiche di sviluppo del mezzogiorno, si chiamano politiche per il mezzogiorno, il mezzogiorno d'Italia. Come prova a farle? Con alcune scelte, ve ne ho detto alcune. Uno, il governo attraverso anche la banca centrale, attraverso chiaramente l'esecutivo, attraverso il ministero dell'economia, prova a fare credito, dunque a dare denaro a imprese, a imprese private, dunque dei prestiti, ok? Dunque la banca centrale appoggia anche altre banche affinché diano dei prestiti alle imprese che stanno nascendo nel sud Italia, ma ha poco peso questo. Allora scegli un'altra strada, sgravi fiscali, cioè riduce le tasse a una serie di soggetti economici imprenditoriali, commercianti, imprenditori affinché possano avviare attività economiche. La prova sgravi fiscali, se voi ogni tanto accettate un telegiornale, accettate a tv, leggete un giornale, sentite, il governo pone gli sgravi fiscali per chi assume dei giovani lavoratori all'inizio dei 28 anni, cioè tu sei un'impresa, assumi un ragazzo che è appunto meno di 28 anni, pagherai meno tasse perché ti sto incentivando ad assumere dei giovani. Gli sgravi fiscali lo dico, io ti riduco le tasse, sgravi fiscali perché la tua area è terremotata, ok, per due o tre anni pagherete meno tasse perché dovete risalire del terremoto e dunque dovete avere più possibilità di spesa. Dunque sgravi per il mezzogiorno. Si comincia a vedere qualcosa, comincia a essere una ripresa, piccola, allora, per ulteriormente incentivarla, fa intervenire, è importante, direttamente lo Stato. e Giolitti propone la costruzione di un polo siderurgico, è il polo siderurgico di Bagnoli, cioè vicino a Napoli. Bagnoli, attualmente esistente ancora come polo industriale, viene di fatto avviato, viene costruito, viene edificato dalle politiche interventiste di Stato di Giolitti. Nessun imprenditore privato avrebbe avuto la capacità economica o avrebbe avuto la volontà politica e peritoriale di aprire un polo siderurgico e lo fa Giolitti, cioè lo Stato costruisce un polo siderurgico per dare un impulso economico al Sud Italia. Va bene, altri poli sud-i-rugici ci saranno, saranno poi dopo a Terni, ad esempio, poi ce ne saranno in Ligure, poi ce ne saranno in Val d'Aoste, o quello di Coce, c'è il polo siderurgico dove si producono appunto attraverso poi Alto Forne, attraverso una produzione molto complessa, metà, ad esempio l'acciaio ovviamente, ad esempio le acciaierie, va bene? Ok, anche tutti noi abbiamo avute. Allora, questa è l'idea, l'idea dello Stato che interviene anche per stimolare la ripresa economica. Ma in questo periodo in cui si assiste comunque a un miglioramento anche del materiale, seppur minimo, dei lavoratori, i salari aumentano, c'è un ciclo di lotte gigantesco, le mondine, i braccianti, gli operai cominciano un ciclo di lotte per le otto ore, va bene, per l'aumento salariale, è chiaro, per la riduzione dei carichi di lavoro, un conto e un'ora lavorata ad un ritmo, un conto e un'ora lavorato ad un altro ritmo, cioè contrappongono le esigenze del lavoro alle esigenze del capitale, che voi sapete essere spesso conflittuali, è chiaro, allora, allora questo ciclo di lotte sostenuto anche dalla nascita poi sta per aggregarsi, sta per nascere il sindacato italiano della CGL, ok, per capire, i lavoratori stanno organizzando, nascono sindacati, sindacati, dicevo già ieri, ad hoc, di singoli lavoratori, dei braccianti, delle mondine, i sindacati appunto, metà almeno, di lavoratori delle fabbriche, che coinfluiranno nell'organizzazione sindacale del lavoro della CGL, una confederazione generale, che nasce nel 1906, poi quando Giolitti cade, proprio di che c'è fermento, sono gli anni in cui Pratolini ambienta il suo celebre romanzo poi il metello, cioè anni di lotte durissime, vuol dire che in quel momento lì la scontro, lo scontro apprenditori, padroni, operai, lavoratori è molto forte, i Giolitti anche accusati, dicevo ieri, di stare dalla parte dei contadini, delle mondine, degli operai e dunque il suo governo comincia a subire delle tensioni, tensioni che intervengono quando, quando Giolitti a un certo punto propone la statizzazione delle ferrovie. Giolitti ripropone un provvedimento, faccio un salto indietro, che aveva già proposto la destra, la destra storica, quella che cade nel 1876, la destra storica che ha avuto come ultimo premier Minghetti, era già caduta negli anni 70 sul tema delle ferrovie. La destra storica, sapete, non è per le privatizzazioni, non è per l'intervento dello Stato, ma è per il pareggio di bilancio e liberista, ma siccome, se non capite rispiegono, l'Italia ha un problema di rete ferroviaria già nel 70-20000 di questo tipo, la rete ferroviaria italiana, che è ancora uno spezzatino, è data in gestione a privati, cioè i singoli privati gestingono le singole tratte, un po' come oggi lo sapete le autostrade, dei tratti li possiede un imprenditore, un gruppo imprenditoriale, i consorzi, dunque la Torino-Savoni è un gruppo imprenditoriale, la Milano-Venezia è un gruppo imprenditoriale, la Torino-Milano, perché oggi sta privatizzata l'inverso di quello che vi sto raccontando. All'epoca questa frammentazione privata non era efficace e efficiente, oggi alcuni, oggi i propri privatizzazioni è la mia opinione, sono molto ideologici, partono dall'idea che privato è meglio, forse, non so se privato è meglio, non so se pubblico è meglio, ma dipende forse da caso a caso e non sempre dipende anche da che tipo di privato, da che tipo di pubblico, perché io del pubblico tedesco mi fido abbastanza perché so che è efficace e efficiente anche del pubblico francese, aperto e chiuso a parentesi. All'epoca c'era meno ideologia nel dire privato è meglio, anzi non era efficace, ogni singolo imprenditore di quella tratta ferroviaria navigava un po' per sé, faceva un po' cassa, denaro a sé stante e dunque la rete ferroviaria italiana faceva acqua a tutte le parti. Allora l'idea è la statalizziamo, diventa, paghiamo gli imprenditori, gli diamo un prezzo, stabiliamo un prezzo, rimborso per le spese, anche gli interessi e diventa dello Stato che l'armonizza. Molti imprenditori, statizzazione delle ferrovie, sono contrari a molti imprenditori, per favorire gli imprenditori aumenta il denaro dato e poi promette anche che cosa, per avere il favore della destra in Parlamento, di cercare i numeri, di far sì che i ferrovieri, che facevano spesso degli sciopero molto lunghi, se diventavano dipendenti statali, perdevano il diritto di sciopero, sono statali, avranno un salario più alto, non scioperano più. i socialisti dicono allora no, non esiste, c'è un diritto che stiamo lottando, che stiamo conquistando, un diritto del mondo del lavoro e scioperare, se statalizziamo non possiamo più essere lavoratori liberi di scioperare. Dunque, Giolitti ha imprenditori che dicono no alla statalizzazione, ha i socialisti che dicono sì, ma non a queste condizioni, Giolitti capisce che non riuscirebbe a vincere questa partea parlamentare e, qui sto tolto in rosso che è importante, mette in atto la sua strategia governativa parlamentare che ripeterà nei tempi successivi. Non hai numeri in Parlamento? Rischio di essere sfiduciato? Mi dimetto. Prima di essere sfiduciato sono io che vi lascio. Vi lascio nella crisi e non mi faccio sfiduciare. Non mi faccio, usiamo un'altra espressione, cuocere a fuoco lento. Come se un domani Conte si rendesse conto che una volta i 5 stelle lo vogliono sfiduciare, un'altra volta lo vogliono fare Salvini, sai cosa che si sentite? Io vi saluto perché di rimanere qua, ok, sulla piastra a farmi cuocere, ok, un esempio non adeguato perché chiaramente Conte è già un compromesso perché i leader politici carismatici sono Di Maio e Salvini. Qua è il leader, e dunque Conte è il basso profilo di quel leader carismatico e Giolitti il quale saluta. È chiaro? Lascia il governo, ci sono dei governi di poca durata perché non riescono e si ripropone come colui che è disposto a ritornare al governo. È abilissimo. Cosa fa? Mentre gli altri governi non dicono neanche chi sono, va bene? Mentre gli altri governi faticano a governare, lui, con i contatti con i gruppi parlamentari, imprenditori, sindacalisti, ricontanti, prepara un governo, un programma, l'altro governo va in crisi e lui si presenta con un nuovo programma e il re, Vittorio Romone III, gli dice ma tu Giolitti con questo programma di governo otterresti la maggioranza. Lui nei mesi precedenti ha già sondato, lo sa, io sono pronto e nel 1906 ritorna al governo con un programma che lui pensa di portare avanti. Guardate ragazzi che lui è veramente abile a di fatto doppio volto, a volte aprire i socialisti ai lavoratori, a volte aprire agli imprenditori padroni, a volte andare a sinistra, a volte andare poi a destra. Tra poco avrà delle aperture anche a destra a nazionalisti, ma ve lo dico se ce la faccio sul finire del Nore. Il primo esecutivo è terminato in quel modo lì. Ah, una cosa mi ero dimenticato, avevo parlato di scioperi. Giolitti nel primo governo ha a che fare con degli scioperi. Vi ricordate che prima con Zanardelli era il ministro all'interno e non era intervinto a reprimerli. Da primo ministro fa lo stesso e in Sardegna i minatori danno vita a uno sciopero che dura settimane e mesi. Sono scioperi ritagliati fuori dal mondo che li mangiamo noi oggi. Con scioderità, le donne che cucinano per i minatori. L'esercito viene inviato ma non interviene mai. Lui conta sul fatto che si esaurirà la spinta e ha ragione. Dunque non interviene reprimendo, restando, uccidendo perché occupano le miniere per lungo. Ma conta che andando avanti lo sciopero i scioperanti perderanno slancio, perderanno forze, non avranno neanche più sostegno economico e magari una parte della popolazione comincia a rivellarsi contro gli stessi scioperanti. È veramente l'ABC di un moderato Machiavelli e magari è stato più duro probabilmente. Ma ci sono degli elementi di calcolo politico. Dice sarebbe molto più sconveniente intervenire prima. Noi abbiamo bisogno di coinvolgere i lavoratori, non di mandarli in carcere. Se fanno questa scelta rivoluzionaria o di estremo sindacalismo potrebbero anche pagare le conseguenze. Dunque si era messo la finestra. Il 1906 vado secondo governo. Ho detto lungo ministero perché dura tanto, dura di fatto tre anni. Cosa fa? La prima operazione io ve la presento. Spero che la capiate. Un po' di economia e un po' di temi finanziari dobbiamo farle. Lui propone una conversione della rendita cioè è un tema di cui si parla oggi propone per abbassare il debito italiano che già comincia a creare per fare queste politiche di abbassare la rendita dei titoli di Stato che voi avete già comprato. voi avete comprato dei titoli di Stato i titoli di Stato sono pezzi di debito pubblico quello che l'Italia ha messo ieri sul mercato e pochi hanno comprato e l'Unione Europea ha cominciato a dire vedete caro governo Conte hai messo sul mercato dei titoli di Stato BTP bot eccetera eccetera non li compro sapete l'Unione Europea perché non li compro perché non si fidano dell'Italia il governo Giolitti e come i governi avevano emanato la banca d'Italia in Italia c'è la banca centrale aveva emanato per conto del governo ovviamente anche dei titoli di Stato dei buoni del tesoro all'interesse faccio un esempio ok del 3% annuo vuol dire che se io do mille lire dopo un anno ho mille e tre lire è chiaro? per abbassare il debito perché io prendo del denaro ma devo darne in più il debito si può allargare propone di abbassare il tasso di interesse così se devo pagarvi di meno io Stato risparmio propone quello e coloro che hanno comprato Sonia anziché dire a questo prezzo non li voglio più ve li rivendo li vedo indietro perché non è che lo so può dire cambio la rendita se ti piace ti piace se non ti piace così puoi anche farlo se sei Stalin se sei il terzo il diritto è difficile se c'è un governo che fa una rivoluzione un governo dittatoriale potrebbe dire le proprietà le cancello le occupo ma un governo liberale non può dire hai sottoscritto un BTP al 3% oggi vale 2 ti va bene e gli uomini le donne famiglie imperditori che hanno quei buoni del tesoro non li ridanno non li ridanno indietro vuol dire che c'è fiducia del governo italiano è chiaro vuol dire per un'altra cosa ragazze io so che è difficile che la maggior parte dei BTP li possediamo agli italiani oggigiorno buoni del tesoro cioè i pezzi di debito pubblico oggigiorno la maggior parte del debito pubblico ce l'ha finanziari privati singole banche la banca europea so il debito italiano e nella pancia non solo dei cittadini italiani che comprono il buono del tesoro ma di tanti cittadini economici dunque è difficile sono impossibili fare questa manovra non è che domani l'Italia dice adesso io cari non vedo più che dicevo prima tutti ti vederebbero indietro paese default fallimento prima manovra riduzione del tasso di rendita mi fa capire che c'è ottimismo nelle forze politiche che governano dunque Giulietti godi di questo consenso secondo provvedimento importante in questo ministero è quello di cercare nuovamente di investire in nuove tratte ferroviarie cioè oltre a statalizzare e si arriva a questo provvedimento lo riesce a ottenere si propone la costruzione di nuove tratte ferroviarie allora capite ragazzi e ragazzi che noi abbiamo una forte riforma dell'infrastruttura e per quello che era ovviamente l'Italia dell'epoca l'Italia dell'epoca ma nel 1907-8 una crisi economica internazionale fa sì che la crescita che da fine arrivederci che da fine del 1800 al 1907 era stata costante cioè l'Italia cresce sempre si ferma un po' come in questo periodo l'Italia è un po' ferma 05-108 questa è la crescita nel 1907 l'Italia interrompe la crescita vuol dire che non c'è più il PIL non cresce la Banca d'Italia vedete i legami politici aiuta il governo Giolitti cosa fa dunque la Banca d'Italia interviene per poter sostenere con il credito le imprese in crisi dunque governare avendo come amico che ti supporta il capo della Banca d'Italia la Banca d'Italia è molto più facile governare contro la volontà della Banca d'Italia della Banca d'Italia europea è chiaro dunque Giolitti sa muoversi anche con le alleanze è chiaro dunque questo secondo governo riesce a reggere alla crisi perché però finisce nel 1909 cosa succede è accade che questo secondo governo è alle prese con un nuovo ciclo di lotte un ciclo di lotte durissimo nuovamente dei lavoratori perché i salari non crescono c'è la crisi comunque anzi diminuiscono ed è nata sta nascendo in questi anni anche la Confindustria nascendo il 1910 cioè gli imprenditori sono già riuniti ci sono gli imprenditori lombardi uniti gli imprenditori delle migliori romani gli imprenditori si stanno sempre unendo e non vogliono più che Giolitti intervenga a favore del movimento operario di Conti di Braccianti Giolitti seconda volta verso la fine capisce che in Parlamento molti liberali lo stanno abbandonando ma i socialisti al contempo non lo sostengono i numeri per governare sono troppo pochi ci sono nuove scontri di piazza scontri nelle campagne gli imprenditori alzano il muro contro il dialogo con i lavoratori i socialisti non possono assolutamente andare a sostenere il governo Giolitti Giolitti la tecnica è quella altri governi anche altre nuove elezioni 1911 ritorna in pista terzo governo non riescono gli altri a dare vita degli esecutivi stabili e chiamano chi? Giovanni Giolitti proprio giolli giolli della politica nel senso che lui è l'uomo che sa affrontare questa situazione il terzo governo 1911-1913 nasce con una svolta veramente progressista tenendo conto che siamo un paese cattolico contadino moderato non siamo un paese progressista non abbiamo la rivoluzione francese alle spalle non abbiamo dalla Magna Carta al Bill of Fry la rivoluzione inglese alle spalle ok? non siamo neanche un paese ricco alfabetizzato come la Germania cosa propone Giolitti col programma di governo arriva lì il suffragio universale maschile ma come lo argomenta? prova a farlo siamo uno degli ultimi paesi a non avere il suffragio universale maschile ok? in Finlandia il dibattito è su quello femminile è già arrivato che al Canada e ai Stati Uniti vota già le donne Australia anche in Italia dunque c'è un grande problema è chiaro la Francia c'è la Germania c'è la Svizzera dunque no la Svizzera quello femminile arriva negli anni settanta del novecento dei paesi che più tardivamente dava il voto alle donne aperto e chiuso a parentesi ma il suffragio universale maschile si sta estendendo ovunque ok? auto eccetera eccetera allora Giolitti dice per coinvolgere le masse e dunque renderle partecipi alla vita pubblica e disinnescare la loro potenzialità rivoluzionaria vediamo il suffragio universale maschile guardi ci sono degli scrittori quei tipo elitaristi Mosca e Pareto su tutti Mosca e Pareto che addirittura all'epoca sostenevano già fino a 1800 che il suffragio universale in realtà non premi i partiti nel lungo periodo rivoluzionario di massa contadini operai perché c'è sempre una propensione ad andare verso la formazione di elite e dunque i partiti di massa si trasformano in partiti elitari e o le stesse masse votano poi dei leader o carismatici o uomini che hanno già il potere dunque non è detto che il povero voterà il povero che l'operai votano l'operai ma tendenzialmente le elite anche nel suffragio di massa sapranno perpetuarsi tutto sull'altro Giolitti la pensa così col suffragio universale maschile non dobbiamo immaginarci un parlamento di contadini di operai è chiaro? perché le elite sono capaci a persi selezioni bellissime di Moschepale bellissime attuale il programma di governo è questo svolto dunque assolutamente progressista altro punto progressista e lo attuerà si arriverà e avrà approvato il suffragio universale maschile e poi l'altro svolto progressista per andare in chiusura e darvi alcune critiche è questa propone una assicurazione nazionale statale obbligatoria per i lavoratori questa assicurazione permetterà ai lavoratori di avere una pensione nel caso si ammalino in maniera irreversibile nel caso siano mutilati sul lavoro infortuni o quando saranno vecchi e dunque il primo a pensare alle pensioni chissà che nella vulgata è Mussolini no è Giovanni Gioletti il quale ha l'idea per accompagnare il lavoratore ripeto che perde due gambe un braccio nella fabbrica o nei campi nella sua malattia della vecchiaia per accompagnare questo bisogna istituire delle assicurazioni obbligatorie che dunque statali che interverranno a dare un sostegno economico al lavoratore in là con gli anni o con le malattie Gioletti in questa svolta sinistra non si dimentica però che si governa sempre spostandosi in maniera abile da una parte all'altra e in tutto da fine ottocento dopo lo sconfitto di Iado ai primi del novecento sempre più sono nate questa cosa importante associazioni italiane nazionaliste che vogliono vogliono l'Italia coloniale che vogliono completare l'unità d'Italia e dunque critiche verso la triplice alleanza ma noi abbiamo un'Italia da completare il Friuli Venezia Giulia Bolzano no l'Alto Adige ma il Trentino sì e Giolitti comincia a dialogare con questi movimenti irredentisti che vogliono completare l'Italia e con questi movimenti nazionalisti che vogliono invece le colonie e cosa fa? decide di portare l'Italia ad un'impresa coloniale nuova e questa impresa coloniale nuova sarà la conquista della Libia in Libia significa confrontarsi con la popolazione i mammelucchi significa andare alla guerra significa andare sulle cenere un po' dell'impero ottomano meglio ho sbagliato ma sulle crisi dell'impero ottomano che sempre più fatica a governare quest'area del Nord Africa l'impresa coloniale sarà salutata da destra con entusiasmo a destra con entusiasmo ma io vi ricordo che un socialista paternalista che farete in poesie come Giovanni Pascoli dedicare una poesia all'impresa coloniale si chiama la grande proletaria semossa cioè Pascoli è contento che Giolitti dia vita al colonismo libico così i contadini italiani un po' ingeno Pascoli avranno terre per cui coltivare in cui coltivare agrumi e dunque viene vista la Libia come una terra per portare benessere agli operai i contadini italiani non avverrà mai questa trasformazione della Libia in un'area diciamo di agricoltura di sviluppo economico ma il fascismo su questo mito in parte ritornerà andando a sconfiggere i beduini costruendo i primi campi di concentramento e utilizzando i gas contro i popoli libici nel deserto prima i nazisti eccetera eccetera il fascismo questo è il terzo governo Giolitti che cadrà a raccogliere l'eredità di questo governo sarà invece la destra ok il governo cadrà nuovamente per i soliti scontri e tensioni anzi cade ma poco prima delle elezioni diciamo c'è uno scioglimento anticipato delle camere si va alle elezioni ok vincerà il centro-destra e comincerà dunque il nuovo governo il governo che poi porterà l'Italia alla prima guerra mondiale perché il governo passerà nelle mani di Salandra e di Sonnino che vi ho già citato conclusione governo vi dicevo ieri del malaffare o il governo riformista valgono tutte le cose è un governo che fa delle grandi riforme prova a modernizzare a svecchiare l'Italia è un governo però anche con tante ombre vi dicevo sicuramente una sua dittatura parlamentare cioè lui utilizza il Parlamento con le sue alleanze i giochi geometrici un po' a sua immagine e somiglianza e dunque sa in parte guidare i gruppi parlamentari sa dunque far nascere nelle stanze segrete questo governo ora nasce ora muore dunque un abile tessitore come Penelope di notte di sfa la tela di giorno la fa fa tutto lui fa nascere e fa morire dei governi è un governo trasformista sì ma ve l'ho già fatto con De Pretis parola da sapere se per appoggiare questo governo rendere forte questo governo mi servono i voti da destra prendo la destra mi servono i voti a sinistra a sinistra i voti dei democratici i voti dei conservatori dei libernazionalisti ben venga trasformo politico sino arrivare vi dicevo in parte al malaffare ad accordi segreti magari con forze politiche forze economiche forze anche appunto illegali in certe parti in certe parti d'Italia dunque è una pagina fondamentale di un uomo che comunque ha saputo capire che il paese doveva cambiare rispetto alle nuove sfide certamente come vi dicevo già ieri non è riuscito a impedire la guerra perché l'Italia andrà in guerra e anche in quel caso lì la sua voce sarà molto lungimirante l'Italia non è preparata economicamente non è preparata militarmente avrebbe più vantaggi standone fuori certamente era difficile una guerra con Inghilterra Russia Francia Austria e l'impero turco ottomano Bosnia tutto praticamente l'Europa rimanerne fuori per un paese che è disteso nel Mediterraneo e l'impero turco